La donna fa i figli, la terra dai frutti. Non sono piaciute alle deputate del PD alla Camera e alle siciliane Gias Chirò e Magda Culotta le parole del candidato grillino alla presidenza della regione Giancarlo Cancelleri durante la presentazione dell'agronoma Federica Argentati come suo potenziale assessore all'agricoltura. L'indignazione è cresciuta a dismisura sui social. In mattinata la vicepresidente del gruppo PD della Camera, Paola Morani, aveva sollevato la questione chiedendo alle donne 5 Stelle se volessero intervenire. Molte di loro hanno preferito il silenzio. Cancelleri però si è difeso. La terra è vita, la donna dà la vita e il più grande complimento che si possa fare e ribadisce poi di continuare a essere il candidato alla regione. In sua difesa, la deputata regionale Angela Foti, che eletta nel 2012 da neomamma di un bimbo di tre mesi, ha sollevato il caso dell'impossibilità di allattare a Lars. Cancelleri ha detto che la politica deve avere i tempi delle donne che non sono i tempi normali, perché la donna è anche madre. Mi sembra bellissimo che finalmente un uomo lo dica. Simona Mafai, del PD, ritiene però sorprendenti le parole di Cancelleri. Se le avesse pronunciate la russa, farebbero meno impressione invece a dirle il leader di un movimento che si propone come il nuovo.